Sono Luca, ho 27 anni e ho frequentato il corso IFTS Sviluppo Software in Galdus. La mia formazione è partita in ambito alberghiero. Subito dopo il diploma ho lavorato per 5 anni in una cucina, ma durante questo periodo ho sentito la necessità di dedicarmi a qualcosa che potesse coniugare le mie attitudini logico-matematiche e il mio interesse per la tecnologia. Sono venuto a conoscenza del corso IFTS Sviluppo Software, facendo una semplice ricerca su internet. Ho consultato quindi il sito di Regione Lombardia, ho avuto la possibilità quindi di trovare facilmente il bando e tramite un colloquio con Galdus ho potuto accedere alle selezioni. Durante il primo modulo abbiamo affrontato il pensiero computazionale e gli algoritmi. Successivamente si è passati a comprendere cos'è la logica di oggetti e questo modulo assieme a quelli precedenti ha permesso di consolidare le basi per poter affrontare qualunque linguaggio di programmazione. I principali vantaggi nel frequentare questo corso per me sono stati il metodo principalmente pratico rispetto al metodo accademico visto in università e, cosa molto più importante, il contatto diretto con le aziende. Ho svolto la mia esperienza di stagio aziendale presso Sistrategy, un'azienda qui di Milano, l'azienda si occupa di creare e produrre software applicativi per altre aziende e successivamente sono stato affiancato a un tutor per capire e poter vedere come lavorava l'azienda e quindi mettere le mani sul loro codice. Punto di svolta per la mia carriera è possibilità di networking.